Approfittando del tournée estiva della nostra nazionale qui in Giappone nel 2018 stiamo continuando a tessere delle relazioni con le municipalità che ospiteranno la nostra nazionale durante il Mondiale 2019 e con aziende giapponesi e italiane che operano in Giappone per cercare di costruire il progetto che vorremmo presentare per il 2019 cioè una calda del rugby passione italiana che ha seguito la nostra nazionale qui in Giappone in collaborazione con la Camera di Commercio Estero qui a Tokyo e le istituzioni italiane.